Buona giornata amici da Massimo Fughetti, oggi è mercoledì 20 luglio 2022, sono le 7 del mattino e ora della rassegna stampa, leggeremo insieme come sempre il resto del carlino e il Corriere Adriatico per quanto riguarda le notizie locali, insomma vedremo che cosa è accaduto ieri e quali sono le prospettive che si annunciano per la giornata di oggi. Intanto passiamo però attraverso l'Almanacco e vediamo subito che il santo del giorno è Santa Polinare di Ravenna, un santo molto noto anche nella nostra provincia, nel Fanese abbiamo anche delle chiese intitolate a Santa Polinare di Ravenna. Santa Polinare fu convertito da giovane da San Pietro, addirittura mentre si trovava ad Antiochia, la città di cui era originario. Seguì l'apostolo nel suo viaggio a Roma, fu fatto vescovo e gli fu affidata alla diocesi di Ravenna dove operò molte conversioni e fece molti molti miracoli. Finché alla fine però non fu imprigionato dai pagani, che ovviamente non vedevano di buon occhio il propagarsi della fede cristiana, fu torturato e per questo morì a causa delle ferite riportate. Fu fatto santo, Santa Polinare di Ravenna è titolare di una bellissima chiesa bizantina che vi invito ad andare a visitare se non l'avete ancora mai fatto. Diamo un'occhiata ora alle previsioni del tempo. Che cosa dire? È una fotocopia dei giorni precedenti, lo vediamo qui nella grafica. Il sole si estende su tutto il territorio regionale. Tempo stabile, ampiamente solleggiato sulle marche. Il clima è caldo, la temperatura è un po' più alta rispetto a ieri. ieri la massima era di 27 gradi, oggi sarà di 29, la minima di 20 gradi. Temperature massime dunque prettamente estive, venti deboli orientali. Le temperature ancora una volta si ribadisce, costituiscono un elemento critico per quanto riguarda la nostra stagione perché poi incidono anche sulla siccità. Tutto questo poi ha le sue ripercussioni nella produzione nel mondo agricolo. Ed ora apriamo la pagina del resto del Carlino, la pagina di Fano. Si parla di politica perché il governo della città di Fano, insomma, tentenna. La maggioranza è in crisi. È in crisi a causa del biodigestore. È in crisi a causa di quello che si configura per il destino di Aset. È in crisi per i rapporti tra il comune di Fano e i comuni dell'entroterra. Leggiamo subito il titolo. Biodigestore, centrosinistra, rischio, esplosione. Il sindaco è sotto assedio. Domani ci sarà una riunione molto molto calda di giunta. Marcheggiani, che è il capogruppo del movimento Azione più Europa, dice Mascarin gode ancora della fiducia del sindaco. Mascarin è uno dei più accaniti difessori dell'autonomia di Aset e Spa. La lotta all'interno del Partito Democratico. Sappiamo poi come il Partito Democratico si sia diviso in una ormai nota seduta del Consiglio Comunale, dove si è deciso di gestore in maniera controversa. Domani dunque il chiarimento in giunta. Azione più Europa chiedono al sindaco un tempestivo chiarimento politico e le eventuali conseguenti scelte, perché poi da qui deriva veramente il ricompatto della maggioranza oppure addirittura, ma questo sarà un po' più improbabile, la sua divisione. E poi occorre chiarire se esiste ancora il rapporto fiduciario tra il capogabinetto Celani e il sindaco, se sia venuto meno il rapporto politico tra alleati, che ha reso comune la strada percorsa negli ultimi otto anni. È un chiarimento questo che chiede azione più Europa, che è poi una lista che appoggia l'amministrazione comunale, appoggia la maggioranza, ma ci sono molti, sono diversi i dissenzienti all'interno di questa coalizione. E vediamo poi come i sindaci dell'entroterra si stanno coalizzando per muovere a protesta nella città di Fano, domani, anzi oggi, oggi alle 18.30. Ci sarà una manifestazione importante che partirà dal Pincio, arriverà fino a Piazza 20 settembre, ci sarà il comitato contro il biodigestore a Barchi, ci saranno i sindaci dell'entroterra, ma ci saranno anche diversi esponenti della maggioranza a protestare contro le decisioni che sono state assunte nel comune di Fano. E vediamo dunque come andrà a finire questa storia. L'estate comunque è una stagione calda in tutti i sensi anche all'interno della politica. Gli altri titoli che vengono evidenziati dal resto del Carlino riguardano Terna. Riguardo Noterna è la realizzazione dell'Adriatic Link, questo elettrodotto che dovrebbe portare la corrente dalle Marche all'Abruzzo. Un progetto che prevede l'interramento dei cavi fino a che da Carrara non raggiungano il mare, poi l'elettrodotto andrà sotto il mare e rispunterà in superficie in Abruzzo. Comunque il problema attuale a Carrara è quello del rumore. E se eri a posto l'ultimatum nei confronti di Terna, datici i dati che avete raccolto sui rumori, perché i rumori stanno continuando a diventare insostenibili. Non si dorme la notte, di giorno si lavora malvolentieri. Un rumore costante, un rumore fastidioso che rende la vita non certo agevole ai residenti di Carrara, specialmente quelli che sono più vicini alla centrale. Il sindaco ha diffidato la società perché consegna i risultati delle rilevazioni. Una mamma dice un caos infernale, nulla è migliorato in questi ultimi tempi, nonostante le assicurazioni dell'azienda di Terna che diceva che avrebbe fatto il possibile per risolvere il problema. E poi si parla anche delle terme di Carignano, finalmente il progetto a impatto zero. Lunedì mattina in Comune il progetto delle terme a zero impatto e zero consumo energetico elaborato dal Politecnico di Milano per conto della proprietà. Il gruppo Romani, proprietà delle terme, è stato consegnato all'amministrazione comunale. A questo primo incontro, oltre alla proprietà per il Comune, erano presenti il sindaco Seri, il vicefanesi e i dirigenti. Seguiranno poi ora gli incontri con la sopraintendenza, la Regione e poi ci sarà tutta la fase burocratica ancora da completare. Un cammino sempre difficile, sempre tortuoso, sempre ricco di sorprese per la realizzazione di un progetto che tutti invece vorrebbero fosse realizzato al più presto. E anche il problema della ferrovia non manca questa mattina sui giornali perché la Regione ha organizzato un incontro a Marotta. Marotta è uno dei centri che ha protestato vibratamente perché l'arretramento della ferrovia non interessava il suo territorio. Ebbene da parte della Regione, in modo particolare dal Presidente Acquaroli e dall'assessore alle infrastrutture Baldelli, si dice che o il progetto coinvolge tutta la Regione oppure non si dovrebbe fare niente perché poi magari se ne si fa solo una parte si ne danneggia un'altra. Acquaroli e Baldelli ripetono a Marotta il no all'arretramento solo per Pesaro e Fano. Seri e Pozzi, Seri il sindaco di Fano e Pozzi l'assessore di Pesaro vanno un po' più cauti. Occhio a non perdere le risorse stanziate. Sarebbe veramente un peccato. 5 miliardi per la Regione Marche. Veniamo anche alla cronaca. Fuoco, 30 mila quintali di paglia, danni ingenti. È accaduto nell'azienda agricola di Maurizio Giacchini, situata a Pergola, in via Montesecco, in località Madonna del Piano, lungo la provinciale 72 al confine con la provincia di Ancona. Le fiamme sono scaturite per cause ancora da identificare ma sicuramente legate alle alte temperature di questi giorni. 30 mila quintali di paglia a fuoco costituiscono un danno particolarmente ingente. Abbiamo ancora un ritorno sulla sentenza della Lanterna Azzurra di Corinaldo sul resto del Carlino. La banda della Lanterna Azzurra, un'associazione per delinquere, si legge nelle motivazioni allegate alla sentenza, ruoli e modalità di azione basati su un patto preciso. Secondo il giudice, quello che è stato fatto era oggetto di un disegno preordinato e questo incentiva, aumenta la colpevolezza di quelli che hanno scatenato il caos durante quella serata in fausta a Corinaldo. Pagina di Urbino. Dobbiamo avere il coraggio di utilizzare le falde per vincere la crisi idrica, la siccità. Gambini, il sindaco, illustra il suo piano. L'ordinanza serve per prevenire una crisi a settembre se continuerà a non piovere. Non siamo, secondo Gambini, in carenza idrica, alzi altri dicono che già lo siamo invece, siamo solo previdenti per i prossimi mesi, però dobbiamo avere il coraggio di utilizzare le falde. Fino adesso si è sempre parlato appunto di scavare pozzi, di prendere l'acqua nei pozzi esistenti, si vale gli invasi, ma al momento ancora nulla è stato fatto, si è solo parlato. Vediamo ora le pagine pesaresi, dove si solleva il problema dei monopattini che vengono rubati. Ebbene il monopattino è un veicolo che si diffonde sempre più, in modo particolare tra i giovanissimi, ma anche per gli adulti, perché è molto facile da usarsi, comodo, non crea nemmeno molti problemi, molte spese per la sua alimentazione, ma il fatto è che viene fatto oggetto di quasi un furto al giorno. L'ultimo episodio, segnalato dalla Questura, ha visto due ragazzini, due minorenni, 14 anni o poco più, rubare addirittura due monopattini. Ne avevano rubato uno al Miralfiore e sono stati bloccati mentre ne stavano rubando un altro, un episodio di cronaca di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. E poi abbiamo parlato nei giorni scorsi anche di quest'ultimo episodio, notte di sesso sfrenato in albergo, ma lui le ruba il cellulare. Lei una moldava, lui un romeno, si sono conosciuti, si sono piaciuti, si sono anche amati, così sembra, hanno consumato una notte di sesso in un albergo, il titolare non li aveva nemmeno registrati, però lui al mattino con la scusa di andare a prendere un caffè si è allontanato rubando il cellulare alla donna e anche 100 euro. La donna però alla fine ha capito insomma che tipo era il compagno e lo ha denunciato alle forze dell'ordine. Ora lo stanno rintracciando, l'hanno già identificato. Non ci fanno pagare l'ombrellone con il POS. I bagnini, non è vero, no, qui il banco si usa per tutto. Insomma il POS ormai è obbligatorio, deve essere accettato da tutti, dai negozi, dalle aziende e anche dai bagnini per i servizi che prestano. Alcuni dicono a noi ancora non ce lo fanno usare, altri dicono no, invece è utilizzabile dappertutto. E qui vediamo nelle fotografie i bagnini che mostrano appunto l'apparecchio del POS in loro possesso. Andrea Ranocchi, titolare dello stabilimento balneare Marevivo, Luca Nataloni, bagnino dei bagni Vanda, Silvia Carbonari, titolare dei bagni 27, il POS in spiaggia ai bagni Irene. Insomma lo dimostrano i bagnini con l'evidenza della loro immagine. Ed ora parliamo di sanità. Parliamo di sanità perché il covid in calza si diffonde nonostante le alte temperature, nonostante l'estate. Insomma la variante in atto riesce a sopravvivere, anzi a diffondersi sempre più. Precari covid 470 a rischio taglio, fuga dell'ex usca, paga e dà fame. Ebbene che cosa accade? Accade che mentre il covid dilaga invece il personale che dovrebbe corredare i reparti in cui si cura questa malattia stanno per vedere la fine del loro contratto. Sono 470. Avevano un contratto a tempo determinato che scade nel mese di settembre ma sembra che sia difficile il rinnovo. Ci sono circa 470 dipendenti della sanità marchigiana che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Sono soprattutto infermieri ma sono anche medici, OSS, amministrativi. Sono i rinforzi dell'area covid, quelli che sono stati assunti a tempo determinato nel 2020. Questo ha consentito un po' di far fronte all'incalzare della pandemia che ha creato grosse difficoltà, ve lo ricordate, a molti reparti ospedalieri, soprattutto al reparto F del reparto del ospedale San Salvatore di Pesaro. Insomma, Salta Martini, l'assessore regionale, dice noi non abbiamo fondi, l'unica possibilità di rinnovare questi contratti sono fondi dello Stato per cui lo Stato dovrebbe finanziare questo provvedimento. Giriamo ancora il giornale e vediamo come l'assessore Aguzzi, l'assessore regionale Aguzzi, insiste a chiedere la riapertura del pozzo del Burano per fronteggiare lo Stato di emergenza. Il caldo torrido impone nuove misure, ha detto, non certe ma ormai molto probabili. Credo che ci arriveremo presto alla realizzazione di questo provvedimento. Ebbene, il caldo desta anche problemi veramente molto gravi. Un malore provoca la morte di un turista a Gabicce Mare. Era giunto da Mantua con la moglie. La moglie si era sistemata sotto l'ombrellone. Lui aveva fatto quattro passi sulla battigia. L'acqua gli arrivava al ginocchio, ma a un certo punto si è sentito male, si è accasciato. Non c'è stata alcuna possibilità di rianimarlo, nonostante che i soccorsi siano stati tempestivi. È stato un malore. Il cuore si è fermato. Ma questo non è stato l'unico caso appunto di un dramma che si è verificato a causa del caldo. Alla tragedia di Gabicce di lunedì seguono altri malori fatali avvenuti ieri, in gran parte nei casi a causa delle patologie di cui soffrivano le vittime. Uno dei decessi è venuto a Marotta, dove un uomo si è sentito male per strada mentre stava andando al mare. Un altro malore mortale si è verificato a Fano, stavolta all'interno di una abitazione. Vediamo anche il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. l'apertura è dedicata anche qui al problema politico. Vediamo il titolo maggioranza di lotta e di governo. Ruggeri, Seri, si deve dimettere. Si pone in evidenza una dichiarazione di Marta Ruggeri, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che appoggia la protesta di Barchi. Il Movimento 5 Stelle appoggia questa protesta. Nel Merino c'è anche il dirigente dell'operazione di gestore. E qui appunto si riassumano un po' tutte le posizioni politiche all'interno della maggioranza. E c'è anche una collusione di alcuni esponenti della maggioranza con quelli dell'opposizione. C'è una differenza netta di valutazione tra il sindaco di Fano e i sindaci dei territori. Poi anche il sindaco di Fano insomma si trova in una posizione critica perché deve dirigere un gruppo in cui ci sono posizioni controverse. Insomma la posizione è alquanto mai critica in questa estate calda e nel nostro territorio. Cinque pullman per raggiungere il Pincio. Qui si parla della protesta in programma oggi alle 18.30. Come dicevo un folto gruppo di persone che protestano per la decisione di istituire il biodigestore nel comune di Barchi. Giungeranno con cinque pullman nella città di Fano, si concentreranno al Pincio, poi in corteo raggiungeranno piazza 20 settembre dove ciascuno porterà il suo messaggio, la sua protesta. Non c'è personale, non c'è personale, green bar chiuso, non si trovano i lavoratori esperti. Ebbene un cartello che è stato affisso ieri nella vetrina del green bar, uno dei locali più famosi del lungomare di Fano, evidenzia un problema che non è solo di questa azienda ma è un problema in generale di tutto il commercio. Se ne parla da diverso tempo, non si trova personale, non si trovano ragazzi sufficienti che vogliono lavorare in questa stagione, forse non vogliono sacrificarsi il sabato e la domenica, forse aspettano un lavoro stabile anziché quello stagionale. Fatto sta che i titolari dei negozi, dei bar, sono in caso in questo caso implicate anche le commesse, si trovano in grosse difficoltà. Basta che uno dello staff inorganico si senta male, in questo caso una dipendente è stata oggetto del covid e quindi si trova in isolamento. Per non creare ulteriori difficoltà agli altri dipendenti il titolare ha deciso di chiudere l'esercizio. È un problema su cui è intervenuta anche la Confcommercio, un problema generalizzato anche per i negozi, ha dichiarato la Presidente Barbara Marcolini. E poi a fondo pagina abbiamo invece una presa di posizione del titolare della ditta Pensi. La ditta Pensi è la ditta che avrebbe vinto l'appalto per i lavori di trasformazione del Sant'Arcangelo, dove viene realizzata la Casa della Musica e il Museo del Carnevale. Però dietro a un ricorso della ditta Navarra, la seconda classificata, un ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo ha deciso di sovvertire la classifica, cioè la ditta Pensi è arrivata al secondo posto, la ditta Navarra al primo. Altro ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha decretato la sospensiva e si è riservato di decidere nella causa di merito nel mese di dicembre. E fino allora che cosa si fa? Ebbene la ditta Pensi, dite, dato che c'è la sospensiva, permettetici di lavorare almeno fino al mese di dicembre. Così si guadagnano dei mesi, non si corre il rischio di perdere i finanziamenti statali, comunitari e quindi i lavori poi potrebbero avvantaggiarsi. Se poi alla fine il Consiglio di Stato emette la sua sentenza di merito e affida i lavori di Navarra, a Navarra almeno una parte dell'opera sarà stata conclusa. Un papà beffato dalla giustizia senza cuore. E questo è veramente un articolo molto molto delicato da leggersi e da considerarsi. Un papà ha avuto un incidente stradale, un incidente stradale le cui conseguenze sono altamente drammatiche. Infatti è morto un bambino, è morto il suo figlioletto di pochi anni. Un dolore grandissimo per il papà, ma il papà deve rispondere però di quanto è avvenuto di fronte al Tribunale. Ebbene questo papà non se l'è sentita di seguire l'iter ordinario e ha chiesto il patteggiamento. Si tratta di Giacomo Durazzi, 37 anni di Senigallia. Ha chiesto il patteggiamento. Saranno i documenti, saranno le rilevazioni a parlare e a indurre il giudice a effettuare la sua sentenza. Comunque è un problema. In questo caso ovviamente il papà non aveva alcuna intenzione di sfociare in questa tragedia. Purtroppo il destino ha voluto così. Ora si cercano delle responsabilità nella sua guida, però insomma tutto rientra in un grande dolore provato per la scomparsa di questo bambino. Giriamo ancora la pagina. Siamo nella Val Cesano, dove anche nel Corriere Adriatico si parla della riunione che si è verificata a Marotta sulla ferrovia. Ferrovia retrata in due stralci. Acquaroli incassa il sì dei sindaci. Insomma tutti sono concordi a estendere il progetto dell'arretramento della ferrovia non solo nei comuni di Fano e di Pesaro, ma insomma in una visione più ampia in tutto il territorio regionale. L'incontro insieme a Valdelli a Marotta di Acquaroli, cauto l'assessore pesarese Pozzi, attenti a non perdere i fondi. Insomma Pesaro era sicuro e non vuole perdere i fondi magari perché qualche sindaco del Sud contesta questo provvedimento. Ma passiamo oltre. Passiamo oltre e vediamo un caso molto molto così anche qui drammatico accaduto a Cingoli. Corre dietro al gattino. Una bambina cade nel pozzo. Un volo shock di sette metri a Cingoli. la piccola salvata dai vigili del fuoco. Il gattino che la piccola portava tra le mani si è divincolato e fuggito. La bambina è cossa dietro al cucciolo e per riprenderlo è salita su alcuni assi di legno che coprivano un pozzo. Un pozzo profondo dicevo sette metri. Le assi però hanno ceduto e la bambina è caduta. E qui è scoppiato il dramma. Sono subito per fortuna arrivati i soccorsi e sono arrivati i vigili del fuoco che hanno raggiunto la bambina, l'hanno imbracata e riportata a terra affidandole alle cure dei sanitari. Sono stati veramente attimi concitati ma l'emozione dei soccorritori nel vedere la piccola viva tra le braccia del vigile del fuoco resterà veramente indelebile. Cosa che purtroppo non è accaduto in altre situazioni dove i bambini sono deceduti, sono morti. Passiamo ora alle pagine pesaresi del Corriere Adriatico. Vediamo le prime due pagine dedicate all'interramento del porto e alla necessità di un dragaggio. La Darsena è mezza vuota ma la sabbia si igliotte il porto. Il punto più basso delle fondale è a 70-80 cm dal livello di superficie. L'ultimo dragaggio del porto è stato effettuato nel 1981. Oggi il porto è utilizzato solo al 50% delle sue potenzialità appunto per la bassa profondità. Uno yacht resta fuori dallo scalo, limiti che vanno superati. Anche i vertici delle cantiere Rossini denunciano una pesante impasse. E poi vediamo che a Pesaro inizia la festa dell'unità. Il ruolo dei sindaci e la crisi di governo sarà oggetto degli incontri di questa iniziativa di carattere politico. La festa dell'unità apre e sta sul pezzo. L'esordio questa sera a Baia Flaminia ha in calendario un confronto tra quattro primi cittadini. E sono Matteo Ricci di Pesaro, Daniela Gergo di Fabriano, Franca Foronti di Cattolica e Brenda Bernini di Empoli. E siamo ormai in conclusione. Non mi resta che dare un'occhiata a questo articolo sulla sanità ospedale senza altre assunzioni. Il piano ferie è un libro dei sogni, è molto difficile mandare in ferie medici e infermieri. I sindacati insorgono verso la direzione per tappare i buchi, si tagliano i servizi e si riorganizza il presidio a scatola chiusa. Ma mi rimane ancora un minuto per darvi un'occhiata ai giornali dello sport. Vediamo come entrambe le squadre del campionato di calcio, la Viz e l'Alma, cercano di rafforzare i loro organici. La Viz mette la freccia a destra, ecco Gazzolini. Mentre l'Alma ha due nuovi tasselli, Mariani in porta e Nyang. Ed era veramente l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento al domani alle ore 7. Buona giornata.